Ciao! Oggi mi trovo in centro a Formigine e più precisamente siamo nel parco di Villa Benvenuti e sto per mostrarti un appartamento con una vista sensazionale alle mie spalle, proprio qua in centro. Comodo a tutto! Eccoci all'interno del nostro ampio appartamento. Come potete vedere i ragazzi hanno voluto reinterpretare questi ambienti molto generosi dell'epoca in una chiave decisamente moderna, con una zona living soleggiata, esposta a est, una sala disimpegnata, comodissima e poi vi mostrerò la chicca soltanto alla fine. Il reparto notte, anche questo decisamente generoso, è composto da tre camere matrimoniali, un bagno principale e una di queste tre matrimoniali ha la caratteristica di essere una master bedroom, ovvero avere una cabina armadi ed un bagno dedicato, anche questo finestrato. Ti ricordo che siamo a sesto piano, siamo serviti chiaramente da un comodo ascensore e se sei interessato a vedere direttamente con i tuoi occhi e apprezzare questo appartamento meraviglioso, mi raccomando, i recapiti sono sempre i soliti, chiamami, ti aspetto! Ciao!